A poco più di un mese dall'esplosione al porto di Beirut, il Premier Giuseppe Conte mette piede in Libano per ribadire il ruolo italiano nella ricostruzione della squassata società libanese. L'Italia contribuirà a un forte sostegno per la stabilità e per la crescita socio-economica del Libano. Il Libano può contare sull'Italia e sul ruolo che l'Italia svolgerà anche in seno all'Unione Europea e alla comunità internazionale per dare un contributo per realizzare questo risultato. Nell'ambito della missione italiana Emergenza Cedri, Conte ha visitato i luoghi dell'esplosione che ha provocato 192 morti. Le successive tappe lo hanno portato sulla nave San Giusto, ormeggiata al porto della capitale e all'ospedale da campo italiano, parte dell'operazione di sostegno al Libano. A Beirut l'Italia di Conte può dire la sua, anche in forza della presenza nel paese di oltre 1000 soldati italiani, distanza presso il contingente Unifil, un apporto all'operazione di peacekeeping che funge da forza di interposizione tra Hezbollah e Israele. L'Italia, che apre al dialogo tra tutte le confessioni, è anche il secondo partner commerciale del Libano, il primo a livello europeo con un ruolo di leadership in alcuni settori chiave come idrocarburi, i prodotti chimici e i materiali da costruzione. In questo contesto il Libano è paese strategico nello scacchiere geopolitico, con il nuovo protagonismo in Libia della Turchia e le potenziali fonti di attrito legate al rafforzamento dell'asse israeliano, sponsorizzato da Trump e recepito dagli Emirati Arabi. L'Italia vuole dunque giocare a tutto campo laddove anche la Francia dispiega i suoi interessi sia politici che economici. Grazie. Grazie.